E allora mi chiedo con Corcella, qual è l'Orazio genuino dopo duemila anni di commenti e di interpretazioni delle sue opere? Orazio ha imitato? E chi? Come? Quando? Riguardo alla fortuna di Orazio, dalla sua morte fino a noi, abbiamo un quadro preciso e dettagliato, si può dire secolo per secolo, nei vari paesi europei ed extraeuropei. Riguardo invece alle imitazioni da lui praticate, ho seguito un criterio particolareggiato, in modo da consentirne una conoscenza frammentaria, anche se molto analitica e approfondita. Certamente l'esame rigoroso e acuto di una singola satira, di una tale ode, di un complesso di epodi, di alcune epistole, è meritevole e vantaggioso per la migliore conoscenza di Orazio, ma lo studioso in generale, o il semplice lettore che vuole essere informato, ha bisogno di un quadro riassuntivo e completo per avere una visione globale sull'argomento e la possibilità di eventuale consultazione. Ecco, quindi, un esame attento dei diversi generi letterari e del modo in cui Orazio, in ognuno di essi, si è rapportato alle fonti greche e latine antecedenti. Lirica. Dalla produzione lirica, greca e latina, amplissima e assai varia, Orazio attinge copiosamente. In ambito greco egli stesso afferma di essersi ispirato negli epodi e nelle satire ad archiloco, considerato il fondatore della lirica greca, imitandone i numerosi metri e l'intensità espressiva, ma non la credine tipica delle composizioni. Più evidente è l'influenza di archiloco nella trattazione di alcuni temi, quello della tempesta, ad esempio, e nell'uso dell'espediente della favola come metafora per fustigare i vizi comuni. Orazio Palesa, invece, una notevole ammirazione per gli esponenti della grande lirica monodica, alceo, saffo e anacreonte. Dal primo il poeta riprende la varia tematica erotica, conviviale, gnomica, religiosa, civile, epica, il topos, di cantare amanti reali, l'uso della strofe arcaica e della strofe saffica. Con alceo, inoltre, condivide l'avversione politica nei confronti dei tiranni, causa del suo rapporto sempre conflittuali con Augusto. Infine, contiene una vera e propria dichiarazione di stima nei confronti di Alceo, giudicato superiore a Saffo. E veniamo alla più famosa poetessa dell'antichità. Nelle Odi e negli Epodi i richiami ad essa e all'isola in cui visse sono molteplici. Orazio canta l'innocente vino di Lesbo, mentre nell'Ode 3 si proclama il primo ad aver introdotto in Roma i versi eolici di Saffo e Alceo. Nell'Ode 1, 13 esprime la sua gelosia nei confronti di Lidia con la stessa tensione e la stessa irrequietezza che ci è dato cogliere in molti canti di Saffo. Cita ancora la poetessa nell'Ode 2, 13, dove, scampato a un incidente, immagina che avrebbe potuto finire nel regno di Proserpina e lì incontrare Saffo, che sulla cetra eolica canta dalle fanciulle del suo paese. Nell'Ode 4, ricordando i numerosi poeti che la morte non è riuscita a sottrarre alla memoria collettiva, fa accanto a quelli di Omero, Pindaro, Simonide, Alceo e Anacreonte. Anche il nome di Saffo, la ragazza eolica dall'accesa passione. E nuovamente Saffo è menzionata nell'Epistola 1, 19, questa volta per rammentare che aveva modulato il suo canto sui metri di archiloco. Anche dal punto di vista metrico, Saffo ha costituito un modello per Orazio che ha adoperato in un solo caso la strofe Saffica Maggiore e in moltissime Odi la strofe Saffica minore. Allegro, completamente dedito all'amore per le donne e fanciulli, dotato di una fluida vena satirica e di sottile comicità, Anacreonte è spesso oggetto di imitazione da parte di Orazio che ne riprende, oltre al metro, la strofe Anacreontica. L'eleganza dello stile è la convinzione più volte ribadita che sia il vino l'unico rimedio alla tristezza della vita. Riecheggiano chiaramente temi anacreontei, le Odi 1 e 2, variazioni sul tema d'amore, mentre un attestato di stima nei confronti di Anacreonte è, come già ricordato nell'Ode IV, in cui il suo nome appare fra quelli dei poeti dalla gloria, imperitura. Passiamo ora ad esaminare i rapporti di Orazio con un'altra grande triade, quella della lirica corale costituita da Pindaro, Pachilide e Simonide. Esaustiva mi appare l'esecuzione di Capocci. Pindaro investe tutta la personalità etica e poetica di Orazio. Nelle Odi del primo libro l'influenza del tebano si rivela nel tentativo Oraziano di imitarne, se non i voli, il colorito dello stile. Evidente invece in particolare in Odi prima e terza, nel Carmen seculare, l'imitazione di Pindaro nell'uso della struttura strofica e nell'intreccio del mito con l'agnome secondo le regole dell'architettura classica, tipica delle Odi oraziane. Senza dubbio, inoltre, Pindaro costituisce il modello per la poesia civile di Orazio. Ciò si coglie nelle Odi e soprattutto nel Carmen seculare, una sorta di peana in onore di Roma. In realtà lo stesso Orazio afferma nell'Ode quarta che lui, simile all'ape matina, non potrà mai imitare il cigno dirceo, pare ad un fiume che tutto travolge e capace di voli sublimi, da nessun altro raggiungibili. Scrive infatti Bianco. Orazio non ha l'entusiasmo ascetico di Pindaro. La sua religiosità non tocca il trascendente. Soltanto costretto, infatti, il nostro sarà il Vate di Roma, anche se nell'Ode terza riuscirà persino a superare il suo modello. Quanto a Simonide, il primo poeta di Epinici, detto il Voltaire greco, per versatilità culturale e scetticismo ideologico, Orazio lo stima al pari del Pindaro, lo imita soprattutto nelle Odi romane, ma si augura di non ripeterne il lungo pianto. Più che i canti civili, infatti, Simonide lo attrae per la sua pur esigua produzione gnomica. Da Bacchilide, infine Orazio mutua, il contenuto degli Epinici, infarciti di mitologia ed elementi gnomici e lo stile controllato, privo di voli pindarici. Non furono sconosciuti ad Orazio nemmeno i due grandi poeti elegiaci del VII secolo avanti Cristo. Min Nermo, per Orazio superiore a Gallimaco e Tirteo, ricordato in Ars 402, per l'incitamento ai giovani a prender parte ad una guerra giusta e nobile. Mentre da Min Nermo riprende tematiche più soggettive, la caducità della vita, la fugacità della giovinezza, la malinconia, compagna indissolubile del saggio e del poeta, è vicino a Tirteo per l'intento morale della sua opera e l'opposizione dichiarata alle guerre civili, benché ne condivida e faccia sua nell'ode terza, l'espressione «dulce et decorum est pro patria mori». Con un ampio salto di secoli valutiamo ora i rapporti di Orazio con la scuola alessandrina, fautrice di una innovazione profonda nell'ambito della lirica greca, sicuramente ne subisce un'influenza notevolissima. Ne condivide infatti sia i contenuti, sia i canoni stilistici, sia infine i presupposti filosofici. Indica Gallimaco come modello per tanti nuovi poetastri romani. Lui stesso vi si rifà negli epodi, cercando di imitarne la finezza estetica e il tratto elegante dei giampi e nelle odi in cui assimila gran parte della tematica degli epilli. Con ogni probabilità, anche la composizione dell'Ars poetica, grande spunto dei Pinakes Callimakei, una sorta di storia della letteratura greca a noi non pervenuta. L'umorismo bonario, la fine arguzia e l'acuto spirito di osservazione sono invece i tratti che avvicinano maggiormente Orazio e Teocrito, la cui incantatrice costituisce sicuramente la fonte delle tematiche svolte negli epodi e nelle satire. Parte seconda.